Ora voltiamo pagina, lo facciamo con un prestigioso ospite nei nostri studi, un personaggio noto di tutto il mondo, che è nato ad Atri. Si tratta di Flavio Sciolello, vedete, performer, filmmaker, attore che vive a Londra, che vive, scusate, lavora a Roseto. Ha partecipato a prestigiosi incontri, kermesse e festival come la Biennale di Venezia. E' stato anche premiato e ha vinto dalla giuria per l'opera più originale al cinema Avvenire Video Festival. E da domani sarà presente con tre suoi video alla diciannovesima edizione del Portobello Film Festival di Londra. Una carriera iniziata 25 anni fa Sciole. Di che cosa si tratta? Lei è uno sperimentatore, quindi cosa ci aspettiamo in questi video? Allora, questi sono tre video che appartengono un po' al mio percorso, vanno a rispecchiare bene tutta la mia estetica. Il primo è un documentario dedicato ad Alberto Griffi, che ha anche una relazione con l'Abruzzo, dato che è stato girato a Pescara quando portai nel 2004 Griffi a una rassegna che curavo, che si chiamava Visioni Sconsigliate. Gli altri due invece sono dei video più sperimentali, legati alla videoarte e al cinema sperimentale. In particolare io sono analogico, ha un certo retro gusto, un certo amore per l'analogico, è un certo rifiuto per il digitale, anche da un punto di vista umano. Bene, noi invece andiamo sempre più verso il futuro in questa società fluida che si muove anche in questo senso con le tecnologie. Lei è un performer, è un attore, lo abbiamo detto, un filmmaker, quindi si muove soprattutto all'estero. La difficoltà di essere famosi, noti, conosciuti, di lavorare e sperimentare nel nostro paese, nella nostra regione? Allora, io mi muovo all'estero principalmente perché in Italia quasi tutti i canali dedicati all'arte sono ormai chiusi da anni, quindi di conseguenza. Io di solito consiglio ai giovani in questo momento di andare all'estero e di non restare in Italia, almeno per chi ha sotto i 25 anni, perché non c'è strada e non c'è possibilità di fare arte, principalmente il mercato è invaso da artisti hobbisti. Bene, ringraziamo Flavio Cholet, è una mara considerazione. Facciamo gli auguri comunque sia a lui che a tutti quelli che vogliono intraprendere la sua stessa carriera.